Ciao cari stimati spettatori, benvenuti sul mio canale. Sono qui con un video fantastico. Sono qui con nuove notizie da Ali Libraim Ceyen e Sila Turkoglu. Prima di passare al mio video, non dimenticare di iscriverti al mio canale, mettere mi piace e condividere il mio video. Hanno creato l'agenda con le loro dichiarazioni scioccanti sull'attrice Sila Turkoglu, che hanno lasciato senza fiato la stampa ai fan della rivista e hanno rivelato una verità straordinaria. Sila Turkoglu è conosciuta come un'attrice i cui progetti di successo e la sua bellezza hanno recentemente attirato l'attenzione. Tuttavia, le scioccanti dichiarazioni della sorella di Ali Libraim Ceyen gettano una nuova luce su di lui. Inserisci l'atteggiamento di Sila Turkoglu nei confronti della famiglia. Ali Libraim ha affermato che l'atteggiamento della sorella di Ceyen, Sila Turkoglu, nei confronti della sua famiglia era piuttosto freddo e distante. Ha anche detto che Sila partecipava raramente alle cene di famiglia e non mostrava alcun interesse per gli eventi familiari. Il comportamento incoerente di Sila Turkoglu nel secondo set è venuto alla ribalta. Ha affermato che la sorella di Ceyen, Sila, era arrogante e chiacchierona nei confronti dello staff del set e che non ha stabilito buoni rapporti con la troupe cinematografica, anche se era l'attrice protagonista nei progetti. 3. Sciogliere i grovigli della vita privata. Un altro punto di interesse nella vita privata di Sila Turkoglu è il punto in cui Sila, sorella di Ali Libraim Cheyan, ha condiviso i dettagli sui suoi recenti kandal non imparentati e molti dei suoi seguaci non hanno trovato affatto vere queste condivisioni e hanno reagito molto alle dichiarazioni. Grazie per aver guardato il video. Arrivederci, ci vediamo con i nuovi video.